Il treno straordinario espresso, 14, 1, 7, 0, delle ore 10 e 54, proveniente da Caraccio e diretto da Lourdes, quindi arrivo al binario 1. Il treno straordinario, 15, 0, delle ore 10 e 54, proveniente da Caraccio e diretto da Lourdes, quindi arrivo al binario 1. Il treno straordinario, 15, 0, delle ore 10 e 54, proveniente da Caraccio e diretto da Lourdes, quindi arrivo al binario 1. Il treno straordinario, 15, 0, delle ore 10 e 54, proveniente da Caraccio e diretto da Lourdes, quindi arrivo al binario 1. Il treno straordinario, 15, 0, delle ore 10 e 54, proveniente da Caraccio e diretto da Lourdes, quindi arrivo al binario 1. Il treno straordinario, 15, 0, delle ore 10 e 54, proveniente da Lourdes, quindi arrivo al binario 1. Il treno straordinario, 15, 0, delle ore 10 e 54, proveniente da Lourdes, quindi arrivo al binario 1. Il treno straordinario, 15, 0, delle ore 10 e 54, proveniente da Lourdes, quindi arrivo al binario 1. Il treno straordinario, 15, 0, delle ore 10 e 54, proveniente da Lourdes. Il treno straordinario, 15, 0, delle ore 10 e 54, proveniente da Lourdes, quindi arrivo al binario 1. Il treno straordinario, 15, 0, delle ore 10 e 54, proveniente da Lourdes, quindi arrivo al binario 1. Il treno straordinario, 15, 0, delle ore 10 e 54, proveniente da Lourdes, quindi arrivo al binario 1. Il treno straordinario, 15, 0, delle ore 10 e 54, proveniente da Lourdes, quindi arrivo al binario 1. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti